Musica Benvenuti su TR24 Sport Ci ha provato sino in fondo l'orassi Ravenna nella gara 3 di ieri sera disputatasi a Forlì Giallorossi che però nulla hanno potuto di fronte allo strapotere della Virtus Bologna che ha vinto il match sul 77-57 chiudendo così la serie playoff sul 3-0 Vediamo Il cuore non è bastato allora si Ravenna per tenere viva la serie playoff contro la Virtus Bologna Giallorossi che hanno dato l'anima nella gara 3 del Palagalassi in un primo tempo di rara intensità in cui le vuonere sembravano aver completamente perso il bandolo della matassa La chiave ancora una volta è la difesa La gabbia predisposta a Tornaloso non funziona ma perlomeno Ravenna riesce a limitare il gioco degli esterni e a colpire con una certa frequenza nella metà campo bianconera Un'orassi che sfiora la doppia cifra di vantaggio all'intervallo ma che poi subisce l'inesorabile ritorno della Virtus La muraglia umana eretta da Ramagli non lascia più scampo a Marx e compagni che segnano col contagocce dall'altra parte Lozon resta un rebus insolubile per la retroguardia bizantina e Ndoia suona la carica a suon di triple Devastante è quella del sorpasso l'autentico momento di svolta del match Di lì in poi Bologna non si guarda più indietro e strappa così il biglietto per una finale playoff a cui si affacerà da grande favorita Un epilogo che comunque non oscura quanto di buono fatto da Ravenna in questa stagione Un campionato forse irripetibile ma che ha incendiato di entusiasmo un intero popolo quello giallorosso Ed è comunque una Horaci Ravenna che esce a testa alta dai playoff di Serie 2 e coach Antimo Martino è pienamente soddisfatto dei suoi ragazzi Il sogno playoff per il basket Ravenna si è interrotto in gara 3 contro lo strapotere della Virtus Bologna L'uscita nelle semifinali rimane comunque un risultato impensabile ad inizio stagione e coach Antimo Martino ringrazia i suoi ragazzi per l'annata straordinaria Qualche pazzo mi diceva ma se andiamo in A1 come facciamo? Dico vediamoci, pensiamo dopo però dentro di me sapevo che onestamente eravamo arrivati ad un punto molto ma molto alto e di fronte avevamo una squadra veramente importante Nonostante questo abbiamo lavorato, abbiamo preparato le partite per provare a mettere in difficoltà Bologna ci siamo riusciti poco onestamente abbiamo dato tutto e questo mi basta usciamo a testa alta e siamo orgogliosi di aver fatto qualcosa di storico per la nostra squadra per la nostra città, per la nostra società e per i nostri tifosi Oltre al merito sul campo, alla Virtus vanno i più sinceri complimenti in vista della finalissima che decreterà chi dovrà salire nella massima serie Va in finale la squadra più forte, una squadra storica, la squadra che è stata costruita per andare in finale e quindi io faccio i complimenti alla Virtus, a coach Ramaglia, su staff e gli augurano in bocca al lupo Parole di fuoco invece quelle pronunciate da Claudio Ndoia al termine del match vinto dalla sua Virtus appunto contro Ravenna Lalla Bianconera si è lamentata per alcune offese di sfondo razziale piovutegli addosso proprio dagli spalti del Palagalassi Vediamo Sapevamo che sicuramente avrebbero dato tutto in questa partita Volevano sicuramente allungare la serie Il primo tempo ci hanno veramente messo in difficoltà Il secondo tempo abbiamo giocato da squadra vera Da squadra importante con gli attributi Quando noi siamo questi Penso che veramente Difficilmente siamo battibili Sì no, voglio dire una cosa che è molto importante Sicuramente sono un giocatore che dà tutto in campo e si vede Però non penso di aver mai offeso qualcuno negli spalti O di aver fatto qualcosa di offensivo nei confronti di qualcuno E non si può sentire ogni volta dei spalti E sta roba qua Perché oggi sono arrivato al limite Ogni volta si sente albanese di merda Spero che si buchi il gommone Zingaro, pezzo di merda Perché il campo, quello che succede dentro il campo Non penso di aver fatto né male a qualcuno Do tutto quello che ho ogni volta E sta roba qua non le posso accettare Perché uno paga 10 euro Ti può offendere la madre da dove vieni e tutto il resto Non funziona così E spero che sta roba qua Ovviamente per me finisce qua e non esiste Però non può essere che in ogni palazzetto che si va Roseto la stessa cosa Contro Casa Monferrato la stessa cosa La gente ti manda i messaggi nei social network Dicendo ti aspettiamo Vieni Zingaro di là di qua Per quale motivo? Per il calcio invece sfugge di mano alla Ravenna Lo Scudetto di Serie D Giallorossi che sono passati in vantaggio Salvo può essere rimontati e aver perso dunque il match Sulla 2-1 nella finalissima contro il Monza Il servizio Proprio sul più bello Al Ravenna manca il guizzo finale Per mettere gli artigli Sullo Scudetto di Serie D Che se lo giudica il Monza Al quinto minuto i Lombardi si rendono pericolosi Con il tiro dalla distanza di Guidetti Che finisce di poco sul fondo Al 29esimo cambia il match L'incursione di Ambrogietti viene fermata in area di rigore Irregolarmente e per Miele di Nola è calcio dagli 11 metri Dal dischetto Selleri insacca Anche se Battagliola per poco Non riesce a salvare clamorosamente il risultato Il 3-5-2 di Antonioli Che ha spiazzato gli avversari regge Anche quando nel primo minuto di recupero La traversa salva i Romagnoli Su conclusione di Derrico Nella ripresa i Brianzoli entrano in campo con Nuovo Piglio E al 49esimo siglano il pari Proprio Derrico si riscatta con un 1-1 provvisorio Su azione personale maturata dalla sinistra Il Ravenna va in bambola e capitola al 62esimo Palesi verticalizza col contagiri per Gasparri Stop e Tocco sotto che valgono il 2-1 definitivo Non si accontentano i Brianzoli E sfiorano a più riprese il Tris Prima con Derrico fermato da Venturi Poi Gasparri al 77esimo Centra il secondolino di giornata E chiude Conti Palazzo Con una bella girata in franta di nuovo dalla traversa Alla fine quindi il Monza Sollevare il trofeo Ma il Ravenna comunque si può consolare Con una grande stagione vissuta da protagonista Con il ritorno in Lega Pro Ci occupiamo adesso di baseball Lo scivolone di gara 1 E' stato cancellato senza colpo ferire Dalla TEA San Marino Che a Parma ha letteralmente travolto i ducali Con un eloquente 11-4 Tutto facile per i sanmarinesi Subito padroni del match E avanti sul 5-0 Già al termine del quinto inning E' dominio anche per Rimini Che conquista per manifesta La seconda partita contro il Tomasina Grazie alla 12-2 Consolidando così la propria quarta posizione In classifica Allo Stadio dei Pirati E' monologo nero-arancio La prossima settimana intanto Il campionato Serverà l'unico turno di riposo previsto In quanto Rimini, San Marino e Bologna Saranno impegnate Nell'European Cup di Regensburg Suddivise in due gironi da quattro squadre Ma adesso è giunto il momento Di dare un'occhiata anche alle notizie Che troviamo riportate sui quotidiani in edicola Cominciamo allora con il Corriere di Romagna Che torna a parlare della favola Dell'orasi Ravenna Una favola però Senza lieto fine La squadra di Martino illude Ravenna per due quarti Poi esce la forza della Virtus Che si guadagna così la finale E per il calcio Il Cesena ripartirà con Camplone Ma Foschi che farà questa la domanda Per quanto riguarda sempre il calcio Ci spostiamo sul QS Sport Per parlare di quello che sarà Il grande evento di questa sera Si parla della finale di Champions League Stanotte o mai più Contro il Real La Juve proverà ancora a vincere La Champions che insegue da 21 anni La nostra intervista Paolo Rossi Questa è la volta buona E Buffon Ronaldo È anche un duello per il pallone d'oro Ma rimaniamo allora proprio in tema Andiamo a sentire a tal riguardo L'opinione di Luciano Poggi E ora? Beh, ora Naturalmente Tutto si ferma Perché c'è Real Madrid Juventus O Juventus Real Madrid Tutto si ferma Si ferma per modo di dire ovviamente Perché i tifosi Della Juventus Saranno lì davanti agli schermi A tifare bianconero Perché tutti gli altri Ed ecco il perché Immagino che l'Italia si fermerà O quasi Questa sera Tutti gli altri Saranno lì A gufare Contro la Juventus La realtà qual è? La realtà è che Questa sera Cardiff In uno stadio Davvero Meraviglioso È uno stadio Che viene occupato Per il calcio In maniera occasionale Perché è Lo stadio del rugby Il rugby in Galles È lo sport Che la fa da padrone Ovviamente Ma dicevamo In uno stadio Meraviglioso Si affrontano Due squadre Che a mio avviso Hanno le medesime Probabilità Scusate Di potersi Aggiudicare la coppa Dalle grandi orecchie Forse Forse Leggermente Favorito La Juventus Potrebbe essere Perché È chiaro Che la difesa Granitica Della Juventus Il Real Madrid Non ce l'ha Magari Magari Ha giocatori Che singolarmente Possono essere forti Ma nel complesso La difesa Della Real Madrid Mi sembra Più Perforabile Di quella Della Juve Dunque Buon divertimento A tutti Ed è tutto Per quanto riguarda Questa edizione Di TR24 Sport Potete comunque Avere maggiori Informazioni sportive Consultando Il portale TR24.it Vi ringrazio Per averci seguito Arrivederci